Tutti sul primo, Ljajic alza la mano destra Cross proprio sul primo, Nastasic, Spizza e poi Romulo Palo! Mamma mia! Dentro per Romulo Buono il dribbling, Ljajic sul fondo, il sinistro, sull'esterno della rete Ma bravissimo Romulo in questa occasione a liberarsi della marcatura di Ringhelli Serie di finte, poi con l'esterno, delizioso l'invito per Ljajic Prova ad arrivarci Ljajic, stoppa, Bardi esce male, ancora Ljajic, a tempo per tirare, no L'appoggio dietro, Romulo alto! Lo specchio, Borca Valero intanto Coro bellissimo intanto dalla Fiesle, Maratona Bianconera, è vuota la Maratona È chiusa, ricordiamolo, per la fine dei lavori Che appunto consentiranno di assistere alla partita contro l'Udinese regolarmente Anche agli abbonati di Maratona Intanto Cassani, punta Cassani alla SAD Poi deve toccare ancora l'indietro È buono Il destro al ruolo di Adem Ljajic Fiorentini in vantaggio con il miglior marcatore dell'estate Adem Ljajic La novità si mette Nastasic Pasqual, sinistro e gol! Manuel Pasqual! 2 a 0 È sempre un piacere vedere segnare un giocatore come Manuel Pasqual Che ormai veste la maglia viola da diverse stagioni Ormai uno degli anziani che esulta come un bambino E porta ancora un bambino Nonostante il clima Ljajic solo davanti a Bardi La parata Davvero una grandissima risposta da parte di Bardi Che si prende gli applausi e complimenti di Ljajic Finisce anche l'applausi Finisce meritatamente con la Fiorentina avanti 2 a 0 Al bottino poteva essere anche più ricco